Se c'è un rientro per un giocatore che è stato fuori per molti mesi, per l'infortuna può sperare di fare, forse questo è il migliore di modi. Sicuramente non potevo chiederti meglio, alla fine vincere in casa davanti al nostro pubblico parando un rigore e tenendo la porta a zero è una cosa bellissima. Ciao, hai imparato un rigore, ti chiedo, è nelle tue corde oppure è stato un caso? No, spero che sia nel mio quadro il più possibile, comunque in settimana abbiamo un po' studiato anche all'inserti dei portieri e con Lorenzo i possibili rigoristi e oggi è andato bene. A proposito di Lorenzo, come vivi il rapporto con Lorenzo? Molto bene, devo dirti la verità, fin dal primo giorno c'è stata complicità, c'è stato molto rispetto fra di noi e anche oggi, come a Pisa, si è dimostrato questa lealtà. Ci alleniamo al massimo delle nostre possibilità, ogni giorno cerchiamo di dimostrare di poter essere d'aiuto alla squadra e poi è il mister che prende le decisioni e fa le formazioni, quindi noi cerchiamo di viverla in modo molto leale. Il mister mi ha fatto qualche domanda qualche ora prima della partita, mi ha chiesto come mi sentivo, se mentalmente e fisicamente mi sentivo pronto per affrontare la gara. Io avevo detto di sì e poi la decisione è stata del mister. Ti aspettai questo tipo di partita, spezi il secondo tempo e poi tutti guardano il calcio di rigore ma anche la parata finale. È stata una partita tosta, avevamo poche indicazioni perché avendo cambiato al denatore non era facile. Sicuramente giocare in casa contro la nuova promossa ancora di più poteva creare insidie. Nel secondo tempo ci siamo abbassati parecchio, potevamo magari cercare di far meglio ma come in tutte le partite analizzeremo cosa è andato e cosa non è andato. Quindi credo che comunque sia stata fatta una vittoria importante per darci anche morale. Solitamente si dice che tra portieri ci deve essere una gerarchia perché il portiere ha bisogno di continuità e di sapere che è il linguaggio numero uno. Nel vostro caso tra voi Lorenzo avete tutta la stessa età quindi non ce n'è una più esperienza magari dell'altro o per il fatto dell'età. Come vedi questa cosa se anche tu la pensi così o se invece conti qui magari una sinergia o un andare d'accordo che potrà rendere a meno? Ma secondo me come in tutte le cose, in tutti i mestieri credo la lealtà e il rispetto che si creano tra i compagni è molto importante. Quello che penso io sinceramente a poco conto è importante quello che pensa il mister quindi questa è più una domanda per lui. Io cerco veramente tutti i giorni di aiutare i compagni, di aiutarmi stesso e dare il massimo. Grazie